Buonasera e ben ritrovati nel nostro tentativo di proporvi ogni settimana personaggi in grado di raccontarci cose interessanti. Oggi incrociamo la nostra strada con un allenatore di pallavolo femminile molto stimato in Italia, non solo per quelli che sono stati i suoi successi, che sono diversi e importanti, ma per come ha lavorato in questi anni a supporto del grande movimento della pallavolo femminile. Io saluto, do il benvenuto al nostro programma, a Marco Mencarelli, ben ritrovato, allenatore di Buster Siste per quanto riguarda la Serie 1 di quest'anno, ma allenatore di una nazionale, quella Juniors, campione del mondo ed è solamente uno dei tanti successi che racconteremo insieme a Mencarelli questa sera della sua carriera nella maggior parte degli anni dedicata alla federazione e allo sviluppo di questo grande movimento. Parlando di pallavolo saluto, non poteva mancare Stefano Michelini, ciao Stefano, ben ritrovato. Non abbiamo il barbiere stasera, ma secondo me è andato a Sanremo, mi è sfuggito in queste ore, quindi non so dove si è finito. Sarà in poltrona a cantare. Esattamente, parliamo, come diciamo con Marco, di pallavolo quando ti intervistano, ovviamente le domande sono spesso più rivolte, e credo quello che è stato il tuo percorso in federazione, iniziato qualche tempo fa. Capita, sì, capita che sia più orientato lì. Dico bene, 92, 92, no? Più o meno, sì. Eh sì, diciamo di sì, diciamo che si cominciò allora, sì, fu un'occasione che mi venne offerta da Giuseppe Bosetti per entrare nel suo staff giovanile, come collaboratore, perché svolgeva una serie di attività nei pressi della città dove sono nato, che è Orvieto, in provincia di Terni, e quindi chiaramente aveva bisogno di un tecnico d'appoggio. E questo vicinamente alla pallavolo come era avvenuto? Sei stato giocatore? Ma sì, sono stato giocatore di livello modesto, perché parlare in questi termini in una città come Modena, devo fare attenzione, sì, di livello modesto, un giocatore di livello modesto, poi chiaramente è molto votato, diciamo, con un'idea professionale della pratica sportiva abbastanza invece importante dentro la mia testa e dentro la mia motivazione, che mi ha portato a intraprendere un approfondimento di studio, quello delle scienze motorie ovviamente, ma soprattutto quello dell'alta specializzazione dell'atletica leggera, e poi chiaramente la pratica della pallavolo mi ha portato lì, inizialmente come preparatore, poi come allenatore. Sì, ma in generale come sta la pallavolo femminile italiana? Dicevo prima, in questo movimento si vantano di avere un grandissimo numero di tesserati, forse il più grande in Italia, come movimento sportivo. Sì, lo sport femminile siamo estremamente... È rimasto, perché lo sento di da tanti anni, ma evidentemente c'è un continuo ricambio di giocatrici, di ragazze che serviciano dal pallavolo. Lo stato di salute qual è? Io sono... lo stato di salute, bisogna vedere come lo si misura, perché lo stato di salute misurato dai dirigenti è sempre, diciamo così, tendente ad esaltare i valori quantitativi. Noi tecnici siamo un pochino più portati a esaltare gli aspetti qualitativi della cosa. Noi giornalisti invece vedere i risultati, che sono ancora quelli più importanti. Allora, sono tre punti di vista che secondo me si devono integrare, perché poi hanno tutte e tre un valore importante. Il mio, quello di mia competenza, l'aspetto qualitativo, mi fa essere sempre estremamente ottimista. Io ho tutti i dati, sto cominciando il percorso di avviamento con la nona generazione di atlete e credo che i numeri che stiamo portando di anno in anno e che nascono, diciamo, da un'analisi assolutamente matematica del movimento siano estremamente incoraggianti. La nona generazione significa annate nell'anno? Sono il mio diciassettesimo anno di attività, diciamo, federale. Sono le 2002-2003 come anni di nascita. Ecco, tu hai un curriculum, un palmarès di... Non ne ha sbagliato praticamente neanche una di queste annate. Se io parto dal 2006, ora europeo junior, se ancora europeo junior nel 2008, 2010, poi saliamo di categorie di valore, no? Oro mondiale nel 2011, 2015 e l'ultimo nel 2017, no? E quindi con tutti questi ori uno potrebbe dire dall'esterno, no? Coramai la pallavolo femminile non è ai vertici, non da oggi, da ieri, no? Evidentemente non è una teoria matematica, non vale vinci con i junior, vinci anche con i senior. No, non è così scorrelata come lo è tra l'attività, diciamo, i campionati nazionali giovanili in Italia rispetto alla Serie A, perché lì c'è proprio una correlazione statistica praticamente insignificante, ma c'è una difficoltà ovviamente grossa nel creare la continuità dopo l'attività juniores nella pallavolo femminile italiana. Quello che, diciamo un pochettino, tira le orecchie alla pallavolo italiana è il fatto che gli altri paesi ci riescono, noi no. E allora, bisognerebbe capire il perché, perché è che, perché è che, mi capita di ricordare spesso un regalo che mi fu fatto da una delle ragazze del Capitalia, una bottiglia di vinsanto fatta dal nonno, dove c'era un'etichetta fatta a mano con scritto ingredienti, due punti, uva e tempo. Uva e tempo. L'uva si trova, il tempo. L'uva la troviamo perché con le nostre selezioni stiamo portando delle ragazze che poi riescono a esaltarsi a tal punto da primeggiare a livello mondiale giovanile. Il tempo forse è l'aspetto che viene un pochettino a mancare nella fase immediatamente successiva. Che poi, quando dico tempo, intendo il tempo in senso proprio cronologico, ma anche l'opportunità. Perché poi il rischio, Stefano, che riguarda anche altre discipline è che quando esci dalla fase junior, io penso ad esempio a tutte le squadre a primavera del calcio, che dopo il buco diventa talmente stretto dove quanti si perdono in termini di percentuali, quanti arrivano, pure c'è anche settore giovanile importanti, di grandi club, quanti arrivano a ridosso della prima squadra. E quindi mi pare di capire che oltre al tempo un po' si disperdono, forse per mancanza di tempo, forse perché, chi lo sa. Ci sono molti fattori. È un peccato perché avendo un patrimonio del genere... È un peccato, è un peccato, è un peccato, però non c'è una dispersione in senso di ragazze che pian pianino tendono a smettere la pratica a sospendere. Le ragazze che partecipano a queste nostre attività di qualificazione nazionale e internazionale ovviamente hanno un livello di motivazione che è difficilmente attecchibile, però magari gente con dei numeri, delle prospettive magari o arriva molto tardi ai massimi livelli alla Serie A oppure non ci arriva alla Serie A. È questo che magari è peccato. Però chiaramente il valore invece positivo di tutto questo è che comunque la nostra Serie A2 e le nostre B1 sono fortemente arricchite da questo processo di qualificazione. Vediamo la foto della squadra dell'ultima, con la quale hai vinto nel 2017, perché poi parleremo anche del campionato di Serie A1, visto che siamo direttamente coinvolti. Queste sono ragazze nate nel 2000... 2000-2001. 2000-2001. Queste dove sono adesso queste ragazze qua? Allora, c'è un gruppo abbastanza... Senza andare nello specifico? Senza andare nello specifico c'è un gruppo nutrito di queste ragazze che è stato inserito nel progetto Club Italia e poi ci sono... Le altre sono nei migliori settori giovani dell'Italia perché c'è una rappresentanza... Sono tutte ragazze in età, diciamo, di finale nazionale nel 18, quindi chiaramente... Loro hanno bisogno di tempo. Queste hanno ancora bisogno di tempo, sì, di quantitativo di tempo, come il volume dell'elemento, hanno bisogno di fiducia. Perché immagino poi i club che costruiscono le squadre con l'obiettivo di vincere, ovviamente il tempo diventa poco perché c'è fretta di vincere. Questo lascia intraprendere un pochettino due considerazioni, uno che non bisogna aver fretta di portare le giovani nella competizione importante perché è giusto anche che la competizione, lo sport di competizione sia competitivo. Quindi non bisogna aver fretta di portare le ragazze e addirittura far diventare la promozione della giovane come un aspetto qualificante e questa è una tirata d'orecchia alla mia categoria e a quella dei dirigenti. D'altro canto ovviamente dove si ha la capacità di concepire una progettualità giovanile, dove si ha la capacità di concepire una promozione del giovane perché magari non si punta a risultati di primissimo livello, ecco magari questo dovrebbe essere un qualcosa da comprendere. Sono i progetti, non Stefano? Le ragazze però non sono al massimo livello però si confrontano già con un livello alto, la maggior parte è in Serie A2. Sì, si stanno confrontando, le migliori sono in un organico che si confronta settimanalmente in un campionato di A2 senza peraltro sfigurare. Infatti è che non è più come i primi Club Italia che in realtà messi a confronto con la Serie A1 e con la Serie A2 erano in grave difficoltà. Non erano assolutamente competitivi perché ai tempi dei primi Club Italia, quando ad esempio ho iniziato io a dirigere e a condurre l'attività del Club Italia, non eravamo competitivi neanche per la B1. Perché facevamo fatica a vincere le 5-6 partite a stagione in B1, quindi era diversa la questione. Vuoi perché magari i processi di selezione, di formazione soprattutto fisica erano, ancora eravamo in una fase di sperimentazione, non avevamo ancora consolidati i principi fondamentali, vuoi perché magari il livello era un pochettino più consistente. Io ricordo che un Club Italia allenato da Massimo Barbolini che aveva fatto, se non sbaglio, la Serie A2. La A2 quando eravamo a Roma. Pochissime partite se non zero, no? Ha perso due volte 3-2, quindi i due punti della stagione erano stati conseguiti in quella maniera. E la categoria era la stessa? Sì, solo che c'era un divario netto tra il valore dei giocatori rispetto a quel valore, quel campionato lì era nettamente a svantaggio. Il reclutamento di queste ragazze come avviene? Come fate per non perdere l'occasione di coinvolgere talenti che poi magari si dedicano ad altre discipline? Perché poi andate a cercarli che ancora forse non hanno ancora ben le idee chiare su quello che sarà la loro attività sportiva, se lo sarà da professionisti, se lo ha a livello amatoriale? Innanzitutto dura un paio d'anni, se non tre. Voi avete persone? Beh, la federazione ha un'organizzazione periferica abbastanza funzionale, perché chiaramente tutti i comitati regionali sono poi suddivisi in comitati territoriali, che ovviamente sono la parte operativa, perché sono quelli che visionano i campionati giovanili a livello periferico, e chiaramente consentono di guidati con dei canoni di selezione, con dei criteri di selezione molto precisi e molto facili da cogliere. Sono guidati ovviamente dalle direttive che diamo da Roma. Ovviamente reclutare un 2002, oggi ovviamente trovi terreno fertile a livello di motivazioni, immagino, no? Una ragazza del 2002 che viene selezionata per una squadra azzurra, che farà poi parte del tuo gruppo di lavoro, ovviamente immagino che le motivazioni siano moltiplicate per mille. Beh, io faccio un escursus nelle nuove generazioni, posso dire che le prime generazioni, molto spesso ci trovavamo a dover far capire alla ragazza quali potessero essere, perché valeva la pena fare un investimento e dire, va bene, provo a fare questo tipo di percorso. Oggi dobbiamo essere più bravi a gestire le aspettative, che sono talmente alte, molto spesso talmente più alte del livello di prospettiva della ragazza stessa, che bisogna starci attenti, anche perché togliere l'illusione da parte delle ragazze, delle famiglie, qualche volta anche delle società, bisogna stare attenti a questo, quindi attuiamo delle attenzioni, ci preoccupiamo di cose che molto spesso sono molto diverse rispetto a loro. Tutto questo immagino da condividere poi con i genitori, che è un altro aspetto importante di questo reclutamento. So che qualsiasi genitori non potrebbe fare niente senza la mia condivisione, ma non in termini pallavolisti, in termini sportivi in generale. Dico anche nelle aspettative dei genitori, che poi sono anche maggiori rispetto all'atleta stessa. Sì, sì, il 50% delle famiglie contrasta, è perplessa sulle aspettative dei figli, ma il 50% delle famiglie è la determinante delle aspettative dei figli, più o meno è questa la percentuale, abbiamo un pochettino studiata questa cosa. Quindi conoscenze molto approfondite, insomma non si lascia nulla al caso, noi ci fermiamo un attimo e riprendiamo tra qualche secondo la nostra chiacchierata. Allora, con noi stasera un allenatore campione del mondo, non è una cosa che ci capita tutti i giorni, con quale parliamo di pallavolo femminile. Adesso facciamo vedere alcune fotografie che riguardano appunto il vostro movimento. Vediamo la prossima. Questa è una nazionale, quella che ha vinto, no? Sì, questa è la nazionale con cui abbiamo vinto l'estate scorsa, nel 2017, il campionato mondiale. Ed era un risultato prevedibile quello oppure è stato un risultato a sorpresa per voi? Ma nell'attività giovanile non è difficile prevedere un risultato così importante, perché magari il percorso per arrivare alle semifinali può essere, diciamo così, agevolato dalla posizione alta del ranking, quindi chiaramente quello ci permette di dire noi giochiamo per la semifinale, finale, per il quarto di finale, quando c'è il quarto di finale, però diciamo che dal quarto di finale in poi prevedibile è ben poco, nel senso che loro... Queste sono del 2000, queste ragazze quindi saranno pronte per il 2024, per le Olimpiadi, qua si guarda 2020. 2000, 2020... Sono del 2000, 2020... Sì, più o meno, più o meno l'età... Se resistono, no, no, se resistono. Esatto, se resistono e hanno le giuste opportunità, se sanno amministrare le opportunità che avranno nel percorso, in senso scegliere sempre la priorità magari di essere protagonisti, oppure magari essere... per ricoprire un ruolo di panchina, ma magari con una competenza, con uno spazio di azione comunque dedicato... Sì, devono entrare in gioco tante componenti, no? Ecco, devono entrare in gioco tante componenti, chiaramente il percorso. La base c'è, la base c'è, la base c'è. La base sicuramente c'è in questa giocatrice, vediamo questa, vabbè, la nazionale di questa, una nazionale e la fotografia è scelta per ricordare che quest'anno ci sono i mondiali e quindi è un'opportunità importante per la nostra squadra, che gli europei è andata così e così. Che tipo di prospettive ci sono per la squadra azzurra quest'anno? Ma è difficile dirlo perché chiaramente siamo all'inizio della programmazione e credo che Davide Mazzanti sia già da tempo a lavoro in questo senso, conosco la meticolosità con cui programma le sue attività e credo che sia già operativo in chiave mondiale già dall'estate scorsa. A proposito di mondiale, noi abbiamo sentito recentemente collegato con Istanbul il nostro caro amico Giovanni Guidetti, che è uno dei nostri portabandiere del mondo, noi da noi in Modenaire, sentiamo quello che ci ha detto Giovanni a proposito della nazionale finita di Palavolo in vista anche dei prossimi mondiali. C'è un po' una crisi di posti 4 da quel po' che vedo, quindi i posti 4 a Palavolo sono importanti, sono importanti un bel po', quindi è vero che questo è GONU che ha fatto un grande Grand Prix, ha fatto un europeo così, così, posti 4 non ce ne sono tanti, non ci sono i posti 4 di una fisicità importante come può avere l'Olanda, come può avere la Cina, come può avere l'America. È un'Italia che secondo me non vale neanche probabilmente le prime 6-7 nazionali al mondo, secondo me è un nazionale da sesto posto in su. Questo è Giovanni Guidetti, allenatore della Turchia, che credo si, perché è il girone anche dell'Italia di qualificazioni, condividi quello che dice lui, una crisi di posti 4 in Italia? Di sicuro c'è una crisi di posti 4 con una fisicità che diciamo che ci possa garantire la competitività, il posto 4 fisicato che non sa fare, ovviamente è come il posto 4 poco fisicato, quindi alla fine ci mancano un po' questi 4 di una fisicità importante rispetto alle prime, le 3-4 squadre top al mondo, lì ci deve pensare un processo selettivo e una gestione oculata dell'attribuzione del ruolo e della specializzazione con le generazioni che stanno venendo. Giovanni parlava di una giocatrice, vediamo la fotografia che è quella di Paola Egonu, che è indubbiamente un prodotto del lavoro che avete fatto in precedenza. Certo, è un giocatore che ha vissuto un percorso veramente sui generis, perché Paola, nessuno conosce i primi due anni di Paola al Club Italia, è il percorso che ha fatto in questi primi due anni dove chi l'ha seguita da un punto di vista fisioterapico e fisico sa che ha dovuto ricostruire tutta la sua motricità di base, non compromessa da condizioni particolari, ma limitata da una predisposizione al sovraccarico, quindi c'è stato fatto un lavoro dove anche ogni singolo allenamento, il numero di salti che veniva proposto era misurato e ponderato, proprio perché si potesse costruire questo giocatore. Dopodiché l'acquisizione delle tecniche, il perfezionamento della qualità del salto, dei tempi sulla palla, sono tutti aspetti che sono venuti in pochissimo tempo, perché ovviamente si è creata una predisposizione al carico di lavoro tecnico che è stata veramente un'opera d'arte. Tu alleni quest'anno la giocatrice che a Modena è stata per una sola stagione, che è Valentina Diouf, vediamo la fotografia. Valentina ha avuto un'esplosione qualche anno fa, poi c'è stato il rischio che un po' che si perdesse anche con qualche mancata convocazione nazionale, è un patrimonio della pallavolo italiana e oggi a che punto è del suo percorso sportivo? Valentina ha 25 anni, quindi è nel pieno di quella che noi tecnici chiamiamo l'età di massima prestazione di un atleta, quel concetto di metodologia dell'allenamento. la Vale credo che stia vivendo una stagione che in termini di continuità forse è una delle migliori stagioni della sua carriera, per cui i picchi di prestazione, le gare da 30, 32, 33 punti hanno accompagnato il percorso di questa ragazza dopo l'attività internazionale giovanile, forse in ogni stagione, non ricordo una stagione dove non ci siano state delle partite da 30 punti, quello che non ricordavo come quest'anno è la continuità di gare espresse su questi livelli, per cui sono molto contento perché questo qui in questi termini diventa veramente un patrimonio della pallavolo femminile italiana. E' soprattutto un punto di riferimento per questi mondiali, no? Ma questo non dipende da me perché chiaramente le convocazioni le fa Mazzanti e chiaramente sono loro due che troveranno questo eventuale, questo punto d'incontro. Tu prepari in officina, diciamo, la macchina? Io sono ovviamente per l'incarico che rivesto a Busto, ovviamente sono lì a lavorare perché la ragazza ogni settimana sia in grado di produrre una prestazione che soddisfi in primis lei e soprattutto il contesto di Busto. Ma ipotizzando che Gonu possa essere di nuovo l'opposta titolare, Valentina può stare in una nazionale a fare la seconda in quel ruolo ed essere comunque importante per la nazionale. Questo qui mi viene... Ipotizzo io che Paolo Egonu possa essere la titolare per quello che si è visto l'anno scorso. Beh, l'anno scorso sono state fatte delle scelte abbastanza precise, i valori del campionato credo che non mettano in discussione il valore di Paola, non so dire di più nel senso che mi porterebbe ad esprimere un'idea tecnica che non può essere comunque in nessun modo la mia nella gestione di questa cosa qua. Di sicuro sono due giocatrici che occupano un ruolo che in campo si esprime in un unico modo, in un'unica direzione. e sono due giocatrici che esprimono un ruolo che ha bisogno di tanta continuità in campo per potersi esprimere. Cioè non è uno di quei ruoli come il centrale che un aspetto del regolamento ha abituato ad entrare e uscire, entrare e uscire e quindi a alternare la propria presenza in campo e quindi la propria anche disponibilità mentale alla contrapposizione con l'avversario. Vedremo, vedremo quello che succederà, c'è ancora un po' di tempo per prepararle. Marco Mencarelli quest'anno allena a Busto che è quarta in campionato, questo è un time out, ho letto il vostro sestetto di domenica scorsa, Barsch, Piani, Orro, tutte del 98 più altre giovani con le quali che fanno parte del vostro progetto tecnico e siete quarta in classifica, questo significa che si può anche rischiare e vincere con le giovani, 98 vuol dire avere 19 anni. Siamo stati celebrati come la squadra con l'età media più bassa dell'intero roster partecipante al campionato di A1, siamo stati celebrati anche con la squadra che tutto sommato schiera sei italiane su sette in campo, quindi anche da questo punto di vista abbiamo avuto delle note di merito. Il quarto posto nasce ovviamente sfruttando molto bene un assetto costruito nella fase preparatoria, un assetto di squadra costruito nella fase preparatoria, una programmazione che ci potesse rendere competitivi fin dalla prima gara, quindi abbiamo sfruttato al meglio il giro d'andata dove abbiamo fatto punti in tutte le partite che abbiamo giocato, quindi abbiamo sempre perso 3 a 2 quando abbiamo perso e tutte le altre ne abbiamo vinte, quindi un giro d'andato che ci ha permesso di mettere Fieno in cascina. Vincere con degli italiani è un bel segnale, no? E' un bel segnale, sono italiane, sono giovani, si può vincere uno scudetto con solo le italiane oggi. Oggi in questo campionato qui abbiamo secondo me due formazioni in particolare che sono Novara e Conegliano con un allestimento di giocatori di una classe di un livello di competitività che... Però di italiane quanti hanno? De Gonua, Novara? Nei ruoli determinanti abbiamo poca roba, sì, abbiamo troppo pochi italiani, nel senso in chiave nazionale abbiamo... Ma perché voi a Busto rischiate con i giovani da altre parti? Nel senso che questo concetto della vittoria è diverso? Questo è un sogno del Presidente, un'idea che Giuseppe Pirola ha sempre professato, almeno da quando io sono l'allenatore di Busto, abbiamo sempre condiviso questo, è chiaro che si paga qualcosa in termini di risultato sportivo, però ovviamente c'è una progettualità che può portare nel tempo a ottenere risultati anche con questo, perché questi italiani qui sono comunque italiani di classe, italiani che vengono dalle nazionali giovanili, quindi italiani che hanno avuto anche esperienze internazionali giovanile, per cui fornendo loro quel tempo di cui si parlava prima, magari poi arriverà un momento in cui la loro competitività... Lo puoi fare quando c'è un signore tipo questo qui in panchina, però, di scommettere così tanto sulle italiane, sulle giovani, sulle giovani di qualità. Ci vuole una società, ci vuole un ambiente che capisca, non so se... Ci vuole un allenatore che capisca e che sappia lavorare sulle giovani, perché spesso il problema probabilmente è anche quello. Eh, direi che passa da quello che non soltanto dà la voglia di un presidente di scommettere sulle italiane, ma di scommettere su un progetto più ampio. Sì, 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 certo. Voglio sottolineare che a Busto, per volontà del presidente, è stato preso in gestione il palazzetto per 24 anni, quindi c'è una progettualità che va veramente ben oltre la stagione agonistica. Avete un vostro pubblico, avete un ambiente... C'è il pubblico, sì, il pubblico è molto più legato ai risultati, quindi chiaramente... Tu Marco, che sei un uomo federale, ma al tempo stesso anche un allenatore di un club, dove ti poni nella querelle sul numero di straniere? Su l'idea federale di passare da 4 a 3 straniere dal prossimo anno? Questa è una risposta un pochino delicata, perché poi so per certo alcune cose. Primo, fra tutte, è che aumentano le opportunità per le italiane, però sono anche abbastanza consapevole che molto spesso, quando sono state poste delle limitazioni sul numero dei straniere, sono aumentati in maniera incontrollata gli ingaggi delle giovani italiane. Quindi la risposta è controversa, bisogna essere capaci di prendere una strada decisa, che magari può essere anche quella federale, però nel contempo creare un contenimento di questo attraverso qualcosa che regolamenti questo aspetto qui. Dal punto di vista tecnico? Dal punto di vista tecnico, ovviamente io sono portavoce del valore importante delle giovani che sono uscite dalle ultime tre generazioni, di conseguenza se queste generazioni hanno delle porte, non dico tutte le ragazze di ciascuna di queste generazioni, però 3-4 per ognuna di queste generazioni abbiano delle porte aperte dentro cui infilarsi e cominciare questo cammino di sviluppo, secondo me… Cioè si è sempre detto che tante straniere fanno crescere anche le italiane. Allora, le straniere che fanno crescere le italiane sono quelle forti, non tutte le straniere fanno crescere le italiane. Secondo me le straniere forti fanno crescere le italiane, le straniere non di primissimo livello ovviamente… Tolgono posto alle italiane. Tendono a più, a togliere opportunità. Però sento dire spesso che il campione italiano è migliorato come qualità degli ultimi anni, condividi questa situazione. Sì, secondo me, io credo che… mi sembra che dalla stagione 2012-2013 che sto… no, dalla prima, dalla 2011-2012 che ho visto che per tre anni non si innalzava il tasso tecnico ma l'equilibrio che c'era all'interno del nostro campionato rendeva il campionato comunque avvincente, comunque contribuiva a dargli un valore agonistico importante e quindi era un ottimo campionato nel complesso. Successivamente a questo triennio che ho un pochettino osservato in maniera più attenta, successivamente a questo triennio ho notato che è ricominciato a salire il tasso tecnico e si vede dal fatto che sono tornate a giocare in Italia anche giocatrici straniere di grandissimo livello e quindi siamo diventati tornati… stiamo tornando… Io ho trovato una forma di equilibrio, grandi giocatrici e possibilità di valorizzare diciamo quello che è il divaio e dare una chance importante a tutte quelle ragazze che hanno vinto quei trofei insieme a questo percorso. Ci fermiamo ancora un attimo. Quando sento parlare da Marco Mencarelli che inizia la nona generazione di giocatrici, ovviamente mi viene da chiedere come sono cambiate le ragazze dalla prima generazione alla nona, c'erano i telefonini, c'erano perché la prima generazione è datata quando? Beh, il gruppo, la prima generazione che ho curato io, abbiamo cominciato a lavorarsi nel 2003 e praticamente era il gruppo 88-89. Vedi, ma come ti rapporti con le ragazze di oggi, gli smartphone, gli telefonini, Twitter, Facebook, Instagram? Tu sei un uomo social innanzitutto? Io sono pochissimo social, anche per una certa diciamo imbranataggine dal punto di vista della tecnologia. Certe generazioni si sono avvicinate a questa bestia? Io sono un forzato della tecnologia. Le tue ragazze invece no. No, loro sono assolutamente native. E quindi tu come ti rapporti con questo mondo? Ci convivi? Ci convivo perché innanzitutto... Cioè in un ritiro azzurro con delle ragazze nate del 2000 che hanno costantemente questo aggeggio tra le mani? Beh, ci sono delle regole. Delle regole. Assolutamente delle regole. Le regole rispecchiano principi metodologici e di convivenza. Ossia, gli spazi e i momenti in cui siamo squadra e gruppo, siamo tutti soggetti al divieto dell'utilizzo del telefono. Quindi se anche ce l'abbiamo addosso deve essere assolutamente silenzioso. e quindi non si può usare perché quelli sono momenti sacri, la squadra e la squadra. E c'è comprensione di queste regole? C'è comprensione. Gli unici due che sono di tutta la delegazione che sono autorizzati a gestire il telefono anche in quei momenti sono il medico e il team manager. Perché ovviamente il team manager è costantemente all'opera per gli aspetti... Vigili su quello che loro scrivono su Facebook, quello che scrivono nei social, non ti interessa soltanto? Questo è molto difficile. Questo è molto difficile perché disattende un altro... O avete qualcuno che le controlla, che è vigile. Questo disattende un altro principio importante che mi ha sempre pagato. Io ho sempre desiderato non condizionare il mio giudizio sul giocatore attraverso un giudizio sulla persona e quando si entra in un rapporto così stretto come può essere quello mediato da un social, ovviamente inevitabilmente viene fuori la persona, viene fuori un qualcosa che nel bene e nel male ti porta a un giudizio sul giocatore che non è più oggettivo e quindi questa è una cosa che è pericolosa soprattutto per chi si occupa di selezione. Ma tu della vita privata dei tuoi giocatori ti interessa, la segui? Diciamo io voglio arrivare poi a un discorso che riguarda il nostro territorio, qualche problemino che la squadra maschile ha avuto quest'anno con Erwin Gappè. Sapere sempre se per l'annatore è importante sapere quello che il giocatore fa nel momento in cui lascia la palestra oppure le faccende private restano tali? Le faccende private sono private, ma se le faccende private incidono sui tre principi fondamentali che un giocatore deve mettere al servizio della squadra che sono l'allenabilità, la nutrizione e il riposo, perché la prima è l'elemento fondamentale, le altre due sono quelle che consentono la prima, ovviamente non scomodo la professionalità, non scomodo le cose importanti che potremmo anche in qualche modo considerare accessori, di primissima importanza ma sempre accessori. Queste tre cose non possono essere disattese dalla vita privata, perché altrimenti finisce il concetto di professionalità e di professionalizzazione dello sport e comincia un qualcosa di completamente diverso. E allora è ovvio che io non mi permetterò mai di giudicare la vita privata di un giocatore, ma se la vita privata è il giocatore prevarica questi aspetti qui, inevitabilmente devo fare un intervento, un intervento privo di giudizio, ma semplicemente un intervento dove devo richiamare all'ordine, devo richiamare e riportare su un binario di adeguatezza. Che è capitato? Mi è capitato di dover intervenire su delle cose, mi è capitato di intervenire tra l'altro con delle sfaccettature importanti, perché quando intervengo ovviamente in modo educativo devo anche… educativo, che è un termine che a me non piace, perché non mi sono mai sentito educatore di nessuno, non so se faccio bene con i miei figli, figuriamoci con quelli degli altri, quindi non sono proprio un educativo, sono un insegnante di pallavolo, uno che forma il giocatore di pallavolo o almeno questo è il mio scopo, però mi è capitato di intervenire su queste cose per esempio con delle ragazze giovani, delle ragazze quindi inconsapevoli magari della pericolosità di quello che stavano facendo, pericolosità per la carriera, pericolosità per il giudizio dell'esterno, pericolosità dell'esposizione mediatica che magari una stupidaggine potrebbe avere al giorno d'oggi, quindi di fronte all'inconsapevolezza è un discorso diverso rispetto a come mi comporterei di fronte a un qualcosa di più premeditato. Dichiero che noi c'eravamo il discorso di ingapè, dove non è un segreto che il giocatore a dicembre, attraverso anche un comunicato allo Stasi, è saputo che a un certo momento del suo percorso professionale di giocatore, dice all'allenatore, io domani sto a casa. Dopo le conseguenze sono state anche quelle a livello sportivo, le sconfitte, le situazioni anche di tensione e quindi immagino che l'allenatore in quel momento lì si trovi ad affrontare un problema diverso dal solito, c'è forse una routine nella vostra attività abbastanza consolidata, poi tu hai espresso i concetti fondamentali, questo è un fuori programma che spiazza un po' tutti e quindi diventa difficile anche questo ruolo dell'allenatore, oggi con tutte queste esigenze diverse che poi scorsa l'ingapè, probabilmente è un caso anche abbastanza unico, non credo che ci siano almeno pubblicamente altri esempi, perché viene spesso accusato l'ambiente di Mono di essere molto curioso e qui tutte le cose che succedono... Non è un caso unico perché è esploso, però magari anche da altre parti ci sono giocatori che si vengono la mattina e dicono domani sto a casa e poi il pomeriggio cambia neanche... Ma secondo me è l'unicità della personalità di queste figure, di questi giocatori che rende il caso unico e proprio perché è unico credo che chi gli sta a fianco, chi lo vive nella quotidianità è l'unica persona che può trovare la chiave risolutiva o comunque la decisione giusta da mettere in atto, perché nel mio piccolo per una semplice maglia della nazionale è dimenticata in albergo, che detto così sembra una stupidaggine ma non lo è, almeno non lo è nella mia ottica, il best scorer di tutta la fase, diciamo, preliminare di un campionato europeo è rimasto fuori dal campo il giorno della semifinale e il giorno della finale, quello di conseguenza è il fatto della grande partita che ha giocato chi le ha subentrata. Diciamo che l'entore si prende un bel rischio perché poi sì, la domanda era poi come si colloca l'entore nei confronti del campione che ti può sostare gli equilibri davanti a certi principi e certe regole che devono animare tutto il gruppo, perché le regole non solo, le regole sono per tutti, quindi se si va a letto, se si deve allenare, mantenere l'equilibrio nella nutrizione e dormire un numero sufficiente ovviamente non puoi fare delle eccezioni per quello che ti fa vincere le partite, è un discorso un po' complicato, da fuori ci facciamo trasmissioni, facciamo dei romanzi, da dentro... Io non ho così tanta esperienza ad altissimo livello di gestione in prima versione... Io non so se l'allenatore preferirei vincere le partite, chiudo un occhio su certe cose, non lo so... Ma secondo me ci deve essere una decisione fortemente condivisa, non è più solo l'allenatore in ballo in quel momento, perché c'è una rappresentanza della squadra, c'è sicuramente la società che si deve esporre in prima persona e quindi c'è un'operazione condivisa, poi chi si prende la responsabilità di esprimerla, quello è un discorso diverso, perché io non sono uno abituato a delegare, per cui come allenatore io tendenzialmente sono uno che si espone in prima persona, poi so che è condivisa, però mi espongo più facilmente, però mi espongo nel senso che... Però dopo, rispetto, il quale mossa a mettere in gioco è molto situazionale, è molto dell'unico. A proposito di giovani, torniamo al femminile, c'è una giovane, credo molto interessante a Modena che è Camilla Mingardi. Qual è il tuo giudizio? Lei è giocatrice, lei è un altro opposto, no? Perché abbiamo solo degli opposti in Italia e adesso stanno, credo, a Modena che dovrà stare utilizzando anche come posto 4, solo come posto 4. Beh, questo è un bel talento, adesso bisognerà giudicarla nel medio e lungo periodo. Non so che percorso ha fatto a livello nazionale qua. Beh, lei ha fatto diverse tappe dei processi di qualificazione, poi ha fatto e li ha fatti quasi tutti da ricevitore, quindi da posto 4, tutti i processi di qualificazione. Credo che abbia fatto qualche stage di attività. Lei è una delle generazioni che io ho selezionato, ma che non ho guidato personalmente, personalmente perché ci sono, diciamo che col vecchio sistema, ognuno, io ero specializzato su certe generazioni, io conducevo un gruppo e poi c'era l'altro collega che conduceva il gruppo, poi c'è stata di mezzo la nomina Signores, per cui c'è stato un gruppo del 96-97 che l'ho saltato proprio a piedi pari, non l'ho guidato in nessun momento. Come diciamo che in prospettiva questa è? Quindi non è che non sa ricevere, c'è stata una scelta a un certo punto che le ha permesso di accelerare il suo percorso e la sua determinazione credo che abbia tracciato veramente un solco importante perché è una delle poche giocatrici che ha fatto un percorso, diciamo, parallelo all'attività della sua generazione di livello internazionale, però che lei ha saputo completare con un raggiungimento della Serie A e onestamente le apparizioni che ha fatto quest'anno in Serie A, forse è un paio di partite che ha giocato un po' di meno del suo valore, sono tutte... Quindi una giocatrice che è in prospettiva per i prossimi mondiali... E' un patrimonio della nostra pallavolo, sicuramente a tutti gli effetti della pallavolo di Serie A e può crescere tantissimo in entrambi i ruoli, a mio parere. Camilla Lingali gioca a Modena, voi con Modena ci avete giocato quattro volte quest'anno? Quattro volte. Avete perso la partita che contava meno, nel senso che è stata l'andata della Coppa Italia, avete vinto quelle che contavano di più, cioè andate in ritorno in campionato e la gara di ritorno di Coppa Italia che vi permette di arrivare alla Final Four che è un bel risultato E' un bel risultato perché è un nostro obiettivo, i nostri obiettivi erano le tre Final Four, quindi questo l'abbiamo centrato e quindi con grande soddisfazione andremo a giocare questa semifinale. D'avversario di Chidon Giudice su Modena è una squadra che sono due anni che prova a fare qualcosa di importante, l'anno scorso c'è riuscita perché ha centrato le finali, ci è arrivato quasi, ha fatto la finale di Coppa Italia, a finale di Scudetto, diciamo sfruttando anche situazioni magari favorevoli, però già arrivare in finale è un gran risultato. È un gran risultato a mio parere. Quest'anno sta faticando molto da avversario, da fuori, che giudizio non hai? Ma quest'anno la discontinuità mi è sembrata molto legata a delle intese un pochettino difficoltose, soprattutto nei giochi di rigiocata, nelle ricostruzioni ho visto molto spesso mancanza di intesa e poi chiaramente ho visto che è stato un pochettino pesante nel rendimento il fatto che Montano non fosse una specialista della ricezione e che molto spesso dovevano così metterla un pochettino in disparte con un grandissimo carico di responsabilità su Leonardo e Bosetti, quindi chiaramente queste due cose insieme hanno reso la squadra magari non così continua come è richiesto da questa stagione dove veramente non c'è respiro. Vediamo l'ultima foto, poi ci fermiamo un attimo e poi cuidiamo la nostra chiacchierata con Marco Mencarelli. Questa è la presentazione delle maglie nazionali per i prossimi mondiali. Ci sono due nazionali che hanno bisogno un po' di riscattarsi per quello che è stato il risultato degli ultimi europei. I maschi sono usciti fuori nei quarti di finale contro il Beggio, le donne idem fuori nei quarti con l'Olanda. Che prospettive abbiamo nei maschi e nelle femmine? Nei maschi faccio un po' più fatica a dare un'indicazione di prospettiva perché la sto ricominciando a seguire un pochino di più quest'anno, negli ultimi due anni, sono appassionato in maniera didattica. Sono appassionatissimo di pallavolo maschile perché tra l'altro vengo da lì perché prima di fare tecnico federale nel 2001 sono stato 5 anni assistente di Lorenzetti nella sua nazionale giovanile dal 1993 al 1999 quindi vengo anche da lì come insegnamenti e come formazione. Quindi sono appassionatissimo e ripeto sto rientrando e riprendendo consapevolezza dell'attività maschile grazie al fatto che Power Volley gioca nel nostro palazzetto e quindi abbiamo una grandissima... Cuoco d'Italia quarta, credo nel ranking mondiale con i maschi, settima a livello femminile... Ebbè perché nel femminile veniamo da un periodo dove ci sono state un pochettino delle... Sono questi i ruoli oggi della pallavolo italiana a livello mondiale? Quarta o giù di lì da po' di maschi, settima o giù di lì le donne? Sì, siamo sempre pericolosi nella partita secca perché noi riusciamo a mettere in gioco un livello tattico che magari altri paesi fanno un po' più fatica soprattutto nella pallavolo femminile ce la possiamo giocare sul discorso delle partite secche e guadagnare qualcosa è chiaro che se guardiamo i valori in campo noi impecchiamo di esperienza e ovviamente stando a quello che dice la statistica l'esperienza e l'età di pratica del livello internazionale è l'elemento più correlato con il risultato sportivo per cui questo è un aspetto veramente da considerare Vediamo, sarà una bella estate per gli amanti della pallavolo per noi invece sarà una bella primavera spero per gli amanti della pallavolo modese ne parliamo tra qualche secondo, l'ultima pausa e poi salutiamo Marco Mencarelli Volevo chiedere a Marco Mencarelli se ha mai sfiorato la possibilità di allenare da queste parti cioè nel modese, c'è stata qualche... Non ho avuto mai contatti in tal senso però chissà mai nel futuro Noi abbiamo, se ne è tanto questa fotografia che è una delle tue giocatrici e lei non so come si chiama, è la Terry Terry, Terry il nome... C'è un cognome anche... Ho capito bene Che poi non ho pronunciato bene è la mia versione quella Ok Lei è un 2000 Dove, quando la vedremo... Beh, lei in questo momento è nell'organico del Club Italia e intanto è alle prese con un infortunio grave che la terra fuori per tutta, ancora per tutto l'inverno la sta tenendo fuori perché purtroppo è successo all'inizio proprio della stagione e la terra fuori anche per tutta l'estate quindi compresa l'estate della nazionale purtroppo però è uno di quei talenti che ovviamente... Peccato perché a 17-18 anni dovessi fermare per un infortunio così lungo, no? È un investimento importante è quello... purtroppo quella è l'incertezza dello sport è un infortunio di tipo traumatico quindi non è un infortunio di quelli che sono in qualche modo prevedibili purtroppo e voglio chiedere manco magari quanto ha influenzato nella tua crescita di allenatore questo signore qua? Questo signore qua... Non ha influenzato molto, nel senso che noi abbiamo cominciato a fare questo lavoro quando lui ha cominciato a vincere quattro scudetti di fila Questo signore qua è un mito io penso che... penso che la mia generazione sia pervasa dei suoi insegnamenti Io ho vissuto i cinque anni nello staff di Angelo Lorenzetti sotto la sua direzione tecnica quindi questo è un aspetto abbastanza importante della mia formazione perché anche se non c'era magari in quel momento un rapporto diretto però c'era una sequenzialità che era imprescindibile e che ovviamente ci ha permesso di fare un'esperienza che è irripetibile nella vita della carriera di un allenatore poi c'è stato un momento successivo dove è subentrata la conoscenza personale la stima reciproca più volte condivisa anche a tavola e la possibilità di parlarci con maggiore confidenza e chiaramente anche lì ho ricavato altri aspetti che vanno al di là del suo essere insegnante e formatore vanno al di là Io ho sentito una... mi ricordo una sua conferenza in cui parlava della differenza tra allenare i maschi e le femmine mi ricordo che accennava il fatto che i maschi se li chiami e gli chiedi di fare il loro colpo migliore loro cercano subito di fare il colpo più difficile per sorprendere sulle donne mi pare ricordare che facessero un discorso di persone molto più riflessive rispetto ai maschi adesso l'ho sintetizzata la tua esperienza invece del rapporto con le donne e con le tue giocatrici dal punto di vista psicologico sono due gli aspetti secondo me uno il meccanismo della competitività è più difficile da farlo venire fuori nelle donne poi quando viene fuori viene fuori bene quindi bisogna andare a trovare il punto preciso esatto e poi l'altro aspetto è il contrasto all'interno di un contesto femminile è un pochettino più determinante rispetto al contrasto che può sorgere in una squadra contrasto inteso come compatibilità un conflitto un conflitto una parola storta una e l'allenatore come si può in questa conflittualità ricorda gli obiettivi ricorda gli obiettivi ricorda gli obiettivi ricorda il fatto che magari questi obiettivi sono condivisi con chi ci paga e quindi chiaramente ci sono diversi elementi nell'ambito del professionismo ci sono diversi elementi che richiamano all'ordine noi quest'anno abbiamo cominciato a conoscere bene questo allenatore che è Rado Stoicev diciamo che il suo concetto di paravolo aiutemi Stefano è quello che non è il singolo ma è la squadra è un concetto che lui ha cercato un po' di infondere e di diffondere in questi suoi primi mesi di Modena e voglio capire qual è il tuo punto di vista sono perfettamente in linea con questo concetto per quanto riguarda l'esperienza che sto facendo in questo momento noi come squadra siamo riusciti a costruirci un girone d'andata a mio parere al di sopra le righe veramente da ogni punto di vista è tutto grazie alla squadra ma non solo la squadra che gioca la squadra nel suo complesso perché tutto quello che abbiamo fatto è frutto di una continuità di allenamento di altissimo livello e dove è mancata la continuità di allenamento sono cominciate a venire fuori delle piccole alternanze di prestazione delle piccole instabilità e quant'altro quindi sono d'accordo su questa cosa qua per quanto riguarda invece il contesto diciamo così giovanile, formativo il panorama internazionale trovo talvolta ho esperienze sia in momenti in cui la squadra si poneva attorno a sostegno diciamo di uno o due plus valori sia esperienze in cui la squadra come nucleo è al pari di una signores ecco, diventava l'elemento determinante ad esempio il mondiale 2017 è un mondiale assolutamente di squadra d'organico, di sistema il mondiale 2015 è un mondiale dove l'asse Egonu-Orru hanno rappresentato un qualcosa di un plus valore ma senza togliere il resto perché poi il plus valore di queste giocatrici qui deriva dai valori delle persone che stanno attorno che magari hanno avuto meno clamore meno riflettori però ecco questo è insomma questa sembra che sia ecco un po' la differenza sì, il nostro dibattito è le giocate di Ingape sono utili alla squadra almeno è chiaro che anche lo spettacolo ha la sua importanza i punti di Ingape sono utili alla squadra sono utili alla squadra sì, i punti sì i punti sì non le giocate in generale i punti poi dopo vediamo un'altra foto voi allenatori avete poi anche dei concorrenti quando poi i grandi campioni si mettono a fare anche i tecnici qui abbiamo due esempi di due fuoriclasse che sono stati Lorenzo Bernardi e Andrea Gianni non tutti i grandi campioni riescono però a intraprendere la carriera di allenatore ci sono varie scuole di pensiero ma immagino anche quella di riuscire magari ad accettare anche gli errori un giocatore che ha avuto una carriera talmente di altissimo livello diventare allenatore e dopo si entra in una sfera completamente diversa dove ci vuole umiltà capacità magari di apprendere volevo chiedere che appunto il grande campione che diventa allenatore qual è la difficoltà che incontra secondo te? Nel togliersi la veste da giocatore e assumere la veste da allenatore e una delle caratteristiche su cui cade il grande giocatore all'inizio spesso è l'intransigenza è l'intransigenza che lo fa diventare immediatamente incoerente nel senso come non capisci quello che sto vivendo io come giocatore fino all'altro ieri sei stato giocatore anche tu quindi in questa situazione qui l'intransigenza spesso è una buccia di banana messa lì e se il grande giocatore che ha deciso di farla allenatore ci mette il piede sopra in particolare su questi due? Qui stiamo parlando qui stiamo parlando di non di grandi giocatori e basta qui stiamo parlando di grandi persone ho la fortuna di conoscere molto meglio Giangio e un po' meno Lorenzo però stiamo parlando di due grandi persone due grandi persone peraltro molto diverse tra di loro perché ovviamente per quel poco che conosco Lorenzo mi sembra molto diverso come persona rispetto a Giangio ma stiamo parlando comunque di due grandi persone con dei principi con delle identità molto consolidate molto precise quindi queste persone qui cosa hanno? a un certo punto magari anche sbattendoci la faccia però chiaramente sono persone che sono predisposte ad apprendere perché hanno i principi per tracciare un solco e camminando nel solco uno sa sempre come correggere poi il proprio incedere quindi secondo me ci sono dei valori che vanno ben oltre il grande campione e ben oltre il possibile grande allenatore Tardogiani ha cominciato qui il suo percorso da allenatore ha avuto un percorso molto formativo a livello di nazionali a livello di club non sempre in grandissimi club ma anche diciamo il desiderio di misurarsi su vari terreni e quella che la cosa eccezionale sua sia anche quella di avere guidato delle nazionali differenti e aver ottenuto poi dei risultati inaspettati dove si può dire che l'allenatore è qualcosa fatto perché poi la fin fine vincono i giocatori l'allenatore non si sa mai quanti punti o quanto conta poi nel risultato finale io nel mio piccolo il fatto di cambiare quando perdete si poteva pagare le conseguenze però quando vincete vincete a volte non è neanche sbagliato come concetto perché sia utilitaristico amministrativo è più facile cambiarne uno che cinque sia dal punto di vista anche delle responsabilità perché non è che faccio della responsabilità spesso le responsabilità sono le nostre è che quando diventa tutta l'erba un fascio quello sicuramente nasconde delle procedure sbagliate a livello diciamo dirigenziale anche almeno alcune sicuramente però dicevo il fatto delle nazionali diciamo di minore importanza o comunque il cambiare il cambiare aiuta ovviamente con dei principi permette di affinare tutte le volte quello che io definisco il processo il processo dell'allenare del guidare del coaching che attuiamo costantemente sulla squadra si affina attraverso il confronto e quindi l'adattamento che noi dobbiamo chiaramente fare su culture diverse oppure su generazioni diverse nel caso mio e così via abbiamo l'ultima foto volevo chiederti innanzitutto se sei se no tu di Orvieto di quella parte vince tutto Perugia quest'anno nei maschi oppure c'è speranza anche per noi Emiliano Romagnoli oppure per quelli delle Marche io vivo nelle Marche tra l'altro perché adesso vivo a Urbino quindi sono un po' lì nell'asse e certo che a parte con gli occhietti la storia delle scarpe di Zeitz no quella noi parliamo un'altra volta le scarpe il tatuaggio quelle sono cose che beh lì io faccio appello alle regole ci sono delle regole assolutamente scritte credo che sia a quello delle scarpe dei tatuaggi sì per quanto riguarda il discorso Perugia credo che credo che è la più forte? ma non credo che sia la più forte in assoluto credo che però sia una squadra che sta costruendo sul successo una forza mentale che ovviamente nel momento dello scontro diretto avrà un peso non è insolvertibile questo perché ho visto giocare anche le altre squadre e i livelli di prestazione hanno dei valori incredibili ma è la loro forza mentale che si sta formando a sondi 3 a 0 di partite con punteggi che sono magari anche un po' non neanche tanto in linea perché mi sembra che la palla con il maschile adesso sia molto allineata sui 3 a 1 3 a 2 con i 7 tirati cioè gli equilibri dalle squadre la tendenza è quella di per il vero Stefano di ritenere che nel maschile Perugia e Civitanova possono essere due favorite lo dice la classifica e nel femminile Novara e Conegliano possono fare altrettanto no? c'è forse da parte di queste due coppie io vedo più netta la differenza tra Novara e Conegliano rispetto a ciò che c'è dietro rispetto alla differenza che possono mettere in gioco Perugia Civitanova rispetto alle immediati concorrenti perché le immediati concorrenti di Civitanova è una che penso possa essere Modena gli altri le vedo un po' tardate Trento e Verona che hanno un po' di problemi si sono un pochettino a tardare Modena non ha le coppe quindi questo può essere un vantaggio nel momento in cui si va a giocare fitto io sto in questo momento sono molto sensibile a questo discorso del sovraccarico di partite questa è la classifica alla ventesima giornata mancano ancora sei partite dalla fine della stagione regolare Modena ha due punti di stacco da Civitanova ci sono una serie di scontri diretti sia per Modena che per Civitanova fondamentali per poter forse permettere a Modena di ridurre questo gap perché un conto arriva a secondi e un conto arriva a terzi un conto arriva a secondi con Modena è un fattore campi in semifinale che può avere un determinato peso anche se poi Modena è una scuola talmente diciamo strana che ha vinto 3 a 0 a Civitanova ha vinto 3 a 0 a Perugia e i punti magari alcuni punti importanti che pesano in questa classifica li ha buttati via in casa e pensiamo ai tre con Padova eccetera eccetera è una talvolta noi allenatori non diamo tanto peso a queste a queste valutazioni che sono un po' più statistiche partite in casa partite in trasferta io ho dei campi su cui vado a giocare con una sicurezza che non è inferiore a quella con cui scendo in campo al Palai Yamamai perché nasce dalla percezione della squadra di come la squadra vive la trasferta quindi non è proprio non la vediamo proprio così sempre comunque vedremo vedremo quello che succederà i playoff sono ormai qua dietro l'angolo perché le stagioni pallavolistiche sono sempre più compresse ed è un peccato perché comunque lo spettacolo è importante ringrazio Stefano Michelini ci vediamo nelle prossime puntate ringrazio e auguro un grande bocca al lupo a Marco Mencarelli che smetta di vincere con Modena per me è già 24 vince 3 su 4 non so magari c'è anche la possibilità che possiate incrociarvi anche forse eh beh sì non è da escludere comunque vedremo siamo qua non si può escludere grazie in bocca al lupo e buon lavoro a Marco Mencarelli noi ci vediamo come sempre la prossima settimana buonanotte grazie a tutti